Nuovamente in diretta in questo ultimo giorno di gennaio qui a Di Buon Mattino pronti per affacciarci domani al mese di febbraio Antonella. E per farlo stamattina vogliamo veramente raggiungere il centro dello studio e ringraziare dal profondo del cuore Salvatore Martinez, presidente del rinnovamento nello spirito, per essere qui con noi. Buongiorno presidente. Questa immagine dello spirito santo dietro di noi ci accoglie. La ringraziamo perché nonostante un piccolo incidente che l'ha vista coinvolta in qualche giorno fa, è qui per aiutarci. A prepararci a far entrare quella colomba nelle nostre vite con il mese di febbraio proprio dedicato allo spirito santo. Nella speranza che non ci si ricordi di lui soltanto nel mese di febbraio o il giovedì che è il giorno dedicato allo spirito santo. La beata Elena Guerra che nel novecento fu protagonista di una riscoperta della presenza dell'azione dello spirito diceva è bene che noi ritorniamo a lui perché lo spirito santo ritorni a noi. È un modo per essere in contatto e per riaprire anche le proprie vite alle fusioni dello spirito santo. Sì, in questo tempo che stiamo vivendo dobbiamo chiederci davvero che spazio ha lo spirito santo. Il tema della crisi ci sta accompagnando fortemente e c'è da chiedersi cosa manca. Manca in realtà proprio l'azione dello spirito santo. Si stanno conclamando nella storia, nella vita dell'umanità, vita personale, vita associata a dei deficit spirituali estremamente profondi ai quali dobbiamo mettere mano. Dunque credo che sia estremamente opportuno riflettere su quella che è la madre di tutte le crisi, la madre di tutte le assenze. La crisi è spirituale e se vogliamo venire fuori da questo tempo così agitato, complesso, pieno di contraddizioni, pieni di dolori, in fondo io in qualche modo partecipo del dolore che c'è nella gente. Guardate, fare l'esperienza di una ospedalizzazione nel tempo del Covid ci dice quanto bisogno c'è di fraternità, quanto bisogno c'è di consolazione, quanto bisogno c'è di silenzio e di preghiera. Quando riscopriamo queste cose ci accorgiamo in che modo lo spirito ritorna. La questione è non se manca lo spirito santo, la questione è se manchiamo noi all'appello, perché vive in noi, è in mezzo a noi. Forse è escluso dalla storia, come un estraneo buttato fuori dalla finestra. Ritornare allo spirito significa sentire la sua presenza e assecondare la sua azione. Noi vogliamo coinvolgere in questa chiacchierata Don Giulio Maspero, teologo della Pontificia Università della Santa Croce, perché ci spiega come i colloqui dello spirito siano anche un modo per prepararci, per vivere a pieno questo mese di febbraio. Anzitutto buongiorno Don Giulio e spiegaci che cosa sono i colloqui dello spirito. Buongiorno, un caro saluto in particolare a Salvatore che mi piempie di gioia a vedere in forma, diciamo almeno combattente come al solito. Garantiamo che è qua e combatte con noi. Sì, sì, ero sicuro, si vede lo spirito, la forza dello spirito che lo sostiene. Allora, questa iniziativa appunto nasce dalla collaborazione proprio con Salvatore, una sua idea, come al solito, quindi forse potremmo dire un'idea dello spirito santo di cui lui si è fatto esecutore e interprete e io ho cercato di fargli da secondo violino, perché ci rendiamo conto che è un luogo molto importante, molto bello, dove far prendere coscienza, consapevolezza che la crisi ha come ragione profonda proprio una crisi spirituale. Sono le università pontifice dove si formano i sacerdoti, i consacrati e i laici impegnati per tutto il mondo, soprattutto a Roma, dove veramente c'è un'opportunità formativa immensa, anche un'esperienza proprio di cattolicità. Io ho alunni di tutto il mondo, dall'indiano al tedesco, dall'americano statunitense fino all'africano, al cinese, c'è tutto, c'è un incontro bellissimo che è un po' una pentecoste, veramente. Allora, riuscire a immettere, a mettere in circolo proprio nell'ambito dell'università pontifice questa coscienza, questa consapevolezza di un'urgenza di parlare dello spirito santo, di ascoltare lo spirito santo, di partire da un'esperienza, è, penso, un'opportunità bellissima e penso alla cosa giusta da fare. Tra l'altro c'è anche prossimamente a febbraio, giusto, uno di questi momenti, uno di questi colloqui dello spirito? Esatto, ce n'è stato uno a ottobre che è stato il kick-off, diciamo così, alla profissionista della Santa Croce con anche Monsignor Fisichella, Monsignor Sequeri, Cettina Militello e il sottoscritto. Abbiamo visto che è un bellissimo format anche quello concepito. E allora, noi ringraziamo Don Giulio Maspero per essere stato con noi, teologo della Pontificia Università della Santa Croce di Roma, perché questi colloqui possano continuare a essere momenti formativi per tutti, specie in questo periodo. Presidente, da quello che ci ha detto Don Giulio, diciamo nessuno è pronto ad essere invaso dallo spirito santo. Lui ci dice, anche i sacerdoti, anche coloro che studiano teologia hanno bisogno di essere preparati a che quella luce entri. Come possiamo fare anche noi, esseri umani, che viviamo le difficoltà della vita? Lei ci diceva, anche vivere un'ospedalizzazione in questo tempo può essere una cosa difficile, complicata. Io penso a tutte le persone che ci stanno guardando che sentono proprio la solitudine di questo tempo, eppure se solo si fermassero a riflettere, accanto a loro c'è lo spirito santo. Sì, c'è una parola che nel tempo della crisi bisogna recuperare, ed è la parola conversione. È la conversione dello sguardo, è la conversione del cuore, è la conversione della mente. Attenzione perché alla parola conversione nella Bibbia fa sempre il paio la parola rinnovamento. Rinnovatevi nel cuore, rinnovatevi nei pensieri, rinnovatevi negli stili di vita, rinnovatevi anche nei punti di interesse. Papa Francesco interpreta questa crisi richiamandoci continuamente l'essenzialità della nostra vita cristiana, l'essenzialità di una fede che si pone in dialogo, il senso di questi colloqui è far dialogare dei teologi. Non è facile mettere in dialogo tradizioni, esperienze, posizioni, letture, letture diverse. E diceva Don Giulio, lì c'è già il segreto della Pentecoste. Quando ci riconosciamo fratelli, quando ci riconosciamo bisognosi gli uni degli altri, quando vedo nel tuo carisma ciò che completa il mio essere cristiano, la mia fede, questa è già presenza dello Spirito Santo. Allora, per stare ancora più in concreto alla domanda, la teologia ha bisogno dell'esperienza, la liturgia ha bisogno dell'esperienza, la dottrina, che noi dovremmo trasferire anche ai nostri figli, ha bisogno dell'esperienza. Dio si conosce, Dio è amore, Dio è gioia, Dio è luce, Dio è guarigione, Dio è liberazione, tutto ciò che diciamo di Dio non è astrazione, non è un concetto ideale, è esperienza. Allora, se conosciamo Dio e lo Spirito Santo ce lo fa conoscere per esperienza, allora noi entriamo nel regime della Pentecoste. Noi vediamo intorno a noi le situazioni cambiare, ma non perché una bacchetta magica dall'esterno rimette in ordine la storia, ma perché rifiorisce la vita interiore, rifiorisce la vita intima, l'intimità con Dio. In un tempo in cui c'è tanto rumore, chi riscopre il potere del silenzio riscopre anche la capacità di parlare, di giudicare. Ecco, questo è il lavoro che dovremmo permettere nello Spirito Santo di fare, non nelle parrocchie, non nelle comunità, quello è il luogo dove poi si attesta questa novità, ma nelle nostre vite, nella nostra vita personale. Questo manca. Abbiamo aperto questa mattinata dicendo che domani appunto inizia febbraio, un mese tradizionalmente dedicato allo Spirito Santo. Lei ci diceva che bisogna anche andare oltre le occasioni, però stiamo anche vivendo un anno intero, che è un'occasione 2022, un anno speciale. Il 26 novembre del 2021 si è aperto proprio il Giubileo d'Oro dello Spirito in un luogo anche speciale, che è la Basilica di Santa Maria Maggiore. Sì, per il rinnovamento, ma vorrei dire per la Chiesa, è un momento di festa, giubilo, richiama gioia, richiama festa. Vale la pena ricordare le origini del rinnovamento. Il rinnovamento non ha un fondatore, non ha un iniziatore, come tanti altri movimenti ecclesiali propriamente detti. È in realtà una risposta dello Spirito Santo e dal basso, quindi dai laici, dalla vita ordinaria, in questo caso la vita di alcuni studenti universitari, alle attese dei pontefici, perché già dall'inizio del Novecento si chiedeva il ritorno dello Spirito Santo. Leone XIII e poi Giovanni XXIII inaugura il concilio chiedendo un ritorno della Pentecoste. E così Paolo VI, il rinnovo dei carismi della Pentecoste, e poi Giovanni Paolo. Insomma, dentro questa attesa, dentro questo desiderio, il rinnovamento è un esaudimento di questa preghiera dei Papi. Per cui non ha nulla di nuovo da dire. La parola rinnovamento, per l'appunto, ci indica la capacità, la possibilità di ripristinare alcuni aspetti fondamentali della vita cristiana e in special modo questa insostituibile presenza e azione dello Spirito Santo. Quindi raccontare il Giubileo d'oro del rinnovamento e in fondo raccontare 50 anni di storia della Chiesa, di vita della Chiesa, che riscopre e attualizza la presenza dello Spirito Santo. Presidente, è bello che in questa immagine che stiamo vedendo adesso lei tiene tra le mani proprio quella luce dello Spirito Santo. Ci sono i sacerdoti che celebrano, ma questa luce, quella dello Spirito Santo, ciò che trasforma il pane in corpo di Cristo, è portata da un laico all'interno di questa celebrazione del Giubileo. Sì, la fiamma, il fuoco è una delle immagini che tradizionalmente ci riconduce allo Spirito Santo. Beh, c'è un fuoco che divora gli uomini e li consuma. L'immagine dell'inferno nel giudizio è l'immagine di un fuoco che distrugge. Ma c'è un fuoco che consacra, c'è una luce che illumina, c'è un fuoco che riscalda i cuori. Ecco, lo Spirito Santo è tutto questo. E San Pietro nel giorno di Pentecoste, quando scende lo Spirito Santo, dice si è effuso lo Spirito Santo, lei ricordava l'effusione dello Spirito, come voi potete vedere e sentire. Se un cristiano è spento, si vede. Se un cristiano ha il cuore chiuso, si vede. Se un cristiano non ha occhi luminosi, ecco la luce, si vede. Allora la presenza dello Spirito si deve vedere e sentire come una luce che se si accende nella notte è capace di rischiarare le tenebre. Le immagini che abbiamo visto prima ci portano anche a un'altra considerazione, la necessità di riportare Maria al centro. Sì, Maria è la più grande carismatica della storia. È con lei che ha conosciuto per prima la portata dell'effusione dello Spirito, che rende i deboli forti, che rende i muti capaci di parlare. Maria esulta, è ricevuta l'effusione dello Spirito e si muove in fretta verso la cugina Elisabetta. In questo muoversi c'è lo Spirito Santo, in questo cantare il Magnificat c'è lo Spirito Santo. Ma di Maria vorrei dire c'è la fecondità dello Spirito Santo. La Chiesa è madre, Maria è l'immagine della Chiesa. Quando noi siamo fecondi e non sterili, quando noi generiamo intorno a noi carità, servizio, e lì c'è Maria, Maria è lo Spirito in questo, è la Chiesa. Allora è estremamente importante ricordare Maria, questo principio fondamentale della vita cristiana. Giovanni Paolo II diceva che noi laici, i carismi, i movimenti, sono la via mariana della Chiesa. Dunque c'è una via petrina, gerarchica, sacramentale, istituzionale, e c'è una via carismatica che unisce tutti, e che è di tutti, non è di un movimento, non è di un carisma. Allora ci sembrava fondamentale non tanto mettere sotto il patrocinio della Madonna questo giubileo, ma iniziarlo con il suo passo, con la sua fede, con la sua preghiera. Siamo in chiusura di questo spazio, abbiamo un solo minuto per dire alle persone come prepararsi a questo mese di febbraio, come far sì che quella luce entri nelle loro case, Presidente. Io penso che ci sia qualcosa che tutti possiamo riscoprire. Ho portato la Bibbia, aspettandomi questa domanda. Tutte le scritture le chiamiamo sacre perché sono ispirate dallo Spirito. Ogni pagina profuma di Spirito Santo. E questa non è carta, questa è carne. È la carne di Dio, è la storia dell'incarnazione di Dio, di come siamo stati amati, di come siamo stati salvati. Allora basterebbe aprire una pagina della Bibbia e sentire in che modo lo Spirito Santo ci parla. E poi come dice sempre Giovanni Paolo II, invocarlo. Perché è una persona, è una persona si chiama, è una persona perché ci stia vicina ed è il Consolatore, va chiamata. Allora suggerisco di sentir parlare lo Spirito Santo attraverso la Bibbia e poi noi rispondere con la nostra preghiera, invocandolo. Grazie mille, Salvatore Martinez, Presidente del Renovamento nello Spirito, per essere stato con noi stamattina e averci portato quella luce che ci ha accompagnato fino ad ora e lo continuerà a fare in questo mese di febbraio. Grazie a voi. Grazie e buona guarigione. Grazie, grazie a voi. Grazie, buona guarigione e a presto. Noi invece vogliamo adesso aprire un'altra pagina e aprirla facendola con la voce di due persone che sono Alessio e Alessandro, i comici del gruppo The Show, che parlando di persone anziane che vivono in questo periodo, insomma, quindi a contatto anche con le tecnologie, hanno posto loro determinate domande. Sentiamole un po'. Facebook. WhatsApp. WhatsApp. WhatsApp, WhatsApp, questa è nuova per me, non ho ancora, non ce l'ho io, Whatsapp. WhatsApp. Twitter. Twitter. Come? Twitter. 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 Bit. Twitter. Snap. 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 E questo era il video dei The Show, ma noi per parlare di anziani e nuove tecnologie abbiamo chiesto a padre Gaetano Saracino di essere qui con noi, missionario Scalabriniano e collegato il professor Domenico Fusco, geriatra del Policlinico Gemelli. Buongiorno padre Gaetano, accomodati. Buongiorno professore. Andiamo subito in pubblicità e poi cominceremo a capire se voi da casa sapete pronunciare Twitter, Facebook, Snapchat, tutto questo dopo un attimo di pubblicità.